Eccoci in un altro punto Probabilmente per un bel po' di soldi li facciano andare lì Per un bel po' più di soldi li facciano andare là E noi... Ma dove finisce l'arcobaleno? Prima volta che vedo dove finisce Non c'è, è una balla Reggerà Tutta solida struttura Bello Mi sembra nettamente più bella la parte canadese ed americana Perché se è americana è solo quella là L'ultima di quella l'ha fatto il... Eh, eh, infatti Ma affondasse Dai!